Hanno cercato di etichettarlo, i soliti ben informati, come un europeo in sordina. Invece neppure la pioggia battente, che ha cercato di rovinare almeno la prima parte della serata, è riuscita a spegnere gli ardori di due cavalli straordinari. Arassi Bocco e Deimos Racing, che vincendo le rispettive batterie hanno dato vita ad una finale mossa fiato. È davvero da ricordare e che rimarrà sicuramente negli annali dell'Ipica italiana e forse mondiale. Arassi Bocco aveva vinto la prima prova, guadagnando così la possibilità di arrivare alla finale, battendo Testimonial Ok e Uragano Terbi con il record della pista, 1-11-3. Poi ci ha pensato Deimos Racing con Enrico Bellay a movimentare la seconda prova ed arrivare alla finale. E la finale è stata davvero straordinaria. Testa a testa per tutti i 1660 metri, con un ritmo siderale ed un tempo addirittura straordinario. Quello che ha portato Arassi Bocco alla vittoria nel campionato europeo 2018. 1-10-4 che, come detto, è destinato a rimanere negli annali dell'Ipica mondiale. Arassi Bocco, frusta in spalla, frustino al cielo. 1-10-4, due record nella stessa serata.